Non siamo scesi in campo, o meglio, siamo rimasti a San Giovanni perché fare una partita del genere fin dal primo minuto loro hanno avuto il predominio di gioco, il dominio del processo palla e noi non abbiamo mai fatto la metà a campo e ripeto io non c'ero, ma visto il risultato, visto l'andamento della partita, visto quello che sta alla direzione testuale sul sito, un 3-0 che non ammette le repliche, un 3-0 che non dice che non c'è stata partita. La domenica c'è il 3-0 di Simone Calodi, bisogna subito e immediatamente rialzare la testa e vincere. Noi dobbiamo continuare quanto di bello abbiamo visto 15 giorni fa, ci stava di perdere, ci stava perché la forza di Cavalzano si sa tutti, ma in questo modo no, mi dispiace. Ciao a tutti e ci vediamo domenica.